buongiorno ragazzi e allora bentornati sul canale glacial arts e oggi vi porto un bellissimo unboxing appena arrivato direttamente dal corriere e scopriamo cosa c'è nel pacco insieme quindi andiamo subito a tagliare e ad aprire il nostro pacco vediamo cosa scopriremo insieme vediamo cosa è arrivato da aggiungere alla collezione e vediamo quindi cosa uscita dal pacco magico intanto questo togliamo dall'inquadratura quindi il primo arrivo è questo bardock direttamente nella shp works della bandai il l'iconico padre di goku nella saga ovviamente dal combo z bellissimo dal la sua confezione promette bene ma andiamo alla seconda il secondo arrivo che sarebbe lui anche dalla bandai shp works il nostro dr strange direttamente rangers infinity war dalla battaglia on titan edition qui con le sue pose fighissime già a spoilerare un po il personaggio anche lui promette benissimo dalla confezione nell'interno della confezione e andiamo al terzo e ultimo arrivo che si trova all'interno del box ed è lui della good smile company il l'action figures del grandissimo robocop forse l'action figures finale da quanto si sente in giro ovviamente questa blister non è come gli altri che si fa lasciando a vedere direttamente l'action figures ma ci sono delle immagini un po a spoilerare finissimo anche questo dalle immagini che vediamo ed ecco lì qui tutti insieme i nostri tre arrivi appena spacchettati dal box pochi ma buoni ovviamente sono usciti in pratica da poco nelle case produttrici e quindi ho voluto prenderli subito tempo niente fatemi sapere anche se voi le avete pressi le avete ordinati se vi stanno arrivando o se già le avete in collezione e fatemi sapere se avete voglia di vedere uno dei tre recensiti insieme nel canale sicuramente riporterò però fatemi capire se quale vi interessa di più dei tre se siete interessati e se siete amanti delle varie saghe dei film dei tre personaggi che ho appena portato qui per il resto è tutto se vi piace se vi piace del video lasciate sempre un like una condivisione e iscrivetevi sempre al canale per essere sempre aggiornati cliccando sulla campanella ovviamente da che la cielo è tutto alla prossima ragazzi grazie